Si chiama Keymap ed è il primo navigatore destinato ai soggetti con disabilità motoria. Frutto della ricerca made in Italy è dotato di un'intelligenza artificiale in grado di imparare dagli utenti ed aggiornare così dati sull'accessibilità dei percorsi sulla base delle rilevazioni che gli stessi utenti rilasciano percorrendo strade e marciapiedi e segnalando la presenza di nuovi ostacoli lungo i percorsi. Keymap è un navigatore già liberamente scaricabile sugli store Android e iOS che permette alle persone con disabilità motoria di sapere dove andare. Quindi il navigatore aggiunge dei livelli di dettaglio mai resi disponibili prima e permette grazie anche alle nostre attività di mappatura e alla tecnologia brevettata che sta dietro alla rilevazione dei dati di dare un'opportunità in più alle persone che hanno difficoltà motoria sapendo dove possono andare e come possono quindi raggiungere i propri punti di interesse o come spostarsi all'interno di una città turistica come Arezzo e raggiungere realmente e evitando le piccole e grandi barriere presenti il loro punto di destinazione. Nel frattempo che segui il percorso lui registra automaticamente lo stato del percorso che stai facendo con l'obiettivo di tenere sempre aggiornato il database dei suoi percorsi. La cooperativa sociale Coenè adesso ha deciso di sostenere questo progetto in provincia di Arezzo. Attraverso la nostra rete di operatori, di servizi ma anche la rete sociale in cui siamo inseriti abbiamo deciso di farla conoscere al nostro interno e fuori perché è veramente uno strumento molto importante per le persone con ridotta mobilità e anche per tutti quanti, quindi per migliorare la capacità delle nostre comunità di essere accoglienti, inclusive e diffondere le opportunità anche di godere di queste bellezze che possono anche creare difficoltà alle persone.